ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video dei libri dell'avvento oggi vi propongo un'altra meravigliosa idea regalo e questa volta sono davvero orgogliosa di ciò che ho creato si tratta praticamente di delle custodie fatte in tessuto e personalizzate a punto croce per custodire i vostri libri nel momento in cui li mettete nella borsa e non volete chiaramente che si rovinino vi faccio vedere come li ho create come li ho messi insieme e alla fine com'è il loro utilizzo due anticipazioni questi sono i regali che ho fatto alle mie sorelle ovviamente come vedete dai nomi all'interno di questi dovrò mettere dei diari che però ancora al momento in cui ho girato il video non mi erano arrivati quindi ovviamente ho inserito due libri per quanto riguarda le misure anche in questo caso mi sono basata sia sul diario che dovrà arrivarmi che chiaramente sulle misure medie dei libri tascabili ho acquistato quindi una stoffa piuttosto spessa perché appunto deve essere resistente per proteggere il nostro libro e le misure in cui l'ho tagliata sono 49 cm di lunghezza per 29 di altezza fidatevi delle mie misure perché anche se sembrano grandi in realtà dobbiamo fare gli orli per fare l'orlo ho utilizzato orlo svelto che penso si possa trovare in qualunque negozio di articoli per cucito perché appunto non ho una macchina per cucire ed è la cosa più semplice l'ho pagata pochissimo ci sono le istruzioni direttamente sulla scatola ed è veramente semplicissimo da utilizzare dopo aver tagliato i fili che ci danno fastidio ci mettiamo sull'asse da stiro prendiamo appunto il nostro nastro orlo svelto e lo tagliamo della misura che ci serve per appunto fare tutti e quattro i lati del nostro pezzo di stoffa togliamo poi la pellicola protettiva e li posizioniamo appunto proprio sul bordo nelle istruzioni c'era scritto di mettere due strati per la stoffa piuttosto spessa dato che questa è abbastanza spessa ho deciso di metterne due e quindi come vedete li sto posizionando precisi sul lato corto del nostro rettangolo di stoffa ho piegato quindi su se stesso il lato quindi sopra l'orlo svelto e poi ci ho dato dentro con il ferro da stiro ciò che fa sciogliere la pellicolina e quindi aderire due pezzi di stoffa è il vapore quindi chiaramente utilizzatelo tanto stando attenti a non bruciarvi e poi procedete in questa maniera anche per l'altro lato corto per fare l'orlo sul lato lungo ho fatto due piccolissimi taglietti come vedete insomma al limite dell'orlo che ho già fatto perché chiaramente la stoffa andrà ripiegata su se stessa e poi taglieremo quella che ci avanza non è semplice da spiegare ma se guardate sicuramente capite perfettamente in questo caso ho utilizzato un solo strato di orlo svelto che ho visto riusciva a tenere benissimo e quindi ho evitato di mettere due strati contemporaneamente e quindi Ed è qui poi che taglio i piccoli pezzettini di stoffa che sono avanzati E chiaramente vi ho già fatto tutti e quattro i lati E il nostro pezzo di stoffa è pronto con il suo bello orlo Lo so che non è preciso ma in fondo infine rimarrà all'interno e non si vedrà Mentre l'esterno apparirà tutto perfetto e bello dritto Come avete visto io non ho usato grandi cose come Enrichelli o Squadre Eppure alla fine in qualche maniera è venuto dritto Ecco quindi state tranquilli Come avete visto io poi ho ricamato due pezzetti di stoffa con il nome delle mie sorelle Voi potete fare qualunque altra cosa sappiate fare Anche ritagliare una semplice immagine da una stoffa con un disegno o con una stampa particolare Per attaccare questo rettangolo, questo rettangolo quadrato di stoffa Alla mia cover per il libro ho riutilizzato orlo svetto All'inizio volevo cucirla Poi effettivamente orlo svetto è veramente molto più rapido e funziona veramente bene E quindi ho utilizzato anche in questo caso, in questo strumento Ho tagliato i quattro lati della lunghezza giusta e li ho posizionati sotto Al mio tessuto ricamato Ecco qui sinceramente avevo paura che il vapore del ferro da stiro potesse danneggiare in qualche modo Il mio ricamo e quindi ho utilizzato un asciughino o comunque un altro pezzo di stoffa da mettere sopra E per proteggere Però in realtà il vapore appunto trapassa il mio asciughino E in ogni caso ha fatto aderire perfettamente il ricamo alla cover per il libro Per quello dell'altra mia sorella ho fatto esattamente la stessa elettrica cosa E in ogni caso Per completare la nostra cover ho bisogno di quattro pezzettini di tessuto Quindi quattro nastri ecco E la nostra cover ha quel filo dello stesso colore possibilmente dei nastri Io cosa ho fatto? Ho semplicemente cucito i nastri sul lato corto al centro In modo che potessi poi farci un fiocco per chiudere la cover Comunque tanto lo vedete mentre lo sto facendo Non è importante essere precisissimi nella cucitura Io non sono sicuramente super capace Il fatto sta che comunque bastano veramente due punti per fissare i nastrini Ecco qua è così la nostra opera si conclude Io spero veramente che vi piaccia e che vi possa ispirare Ho dato il meglio di me vi giuro non ho mai fatto cose così E niente io vi do appuntamento a domani con un altro video A presto